Senti, entri in campo e devi marcare il numero più duro da marcare nella Lega forse e giochi presto in 13 minuti? Sì, non è facile marcare lui, non tanto perché è duro, ma perché è mobile, non sta mai fermo, salta un sacco e quindi è difficilissimo a portare fuori contro di lui. Sono stati 13 minuti buoni, sono contentissimo, meno male che sono arrivati nel playoff. Bene. Non è male, però bisogna rimanere concentrati perché sennò loro in casa cambiano proprio faccia totalmente, quindi non sarà facile, dobbiamo stare concentrati, dobbiamo giocare come i primi tre quarti qua e se giochiamo così vinciamo. Sì, sì decisamente perché la fiducia la prendi giocando alla fine, io arrivavo da tre anni praticamente mai giocati, non giocati praticamente, e quindi piano piano giocando il coach mi dà fiducia, mi ascolta, io l'ascolto e quindi è più facile così, decisamente più facile.